sono le ore 11 del mattino l'azzurro è in pieno alluvione per un mese e cinque giorni ha solo visto il solo oggi è stato castigatissimo e non si nemmeno ha fatto memoria di vecchi ricordi che qualcuno sa siamo completamente sotto immersi dell'acqua la tenda si è svegliato così non si vedrà ovviamente ma queste acqua cioè sono due dita e mezzo di acqua nella tenda sono zuppo fratico e non so come uscire perché sta diluviando guardate qua ragazzi sono sommerso dall'acqua sono sommerso dall'acqua zuppo fratico un pulcino devo salvare le cose più importanti non so da dove partire tanto che la tecnologia si deve sparare 260 chilometri autostop oggi capite un attività così come dire interessante la cosa ora come uscire nella situazione mi sembra una cosa ma dimmi te sei sul lago biker dove fare una cosa del genere non sembra assolutamente il tempo intenzionato a smettere io ieri ho gridato al sole in un attimo di follea comunque guardate che roba guarda qua guarda qua un dito mezzo d'acqua soppo come un pulcino la sensazione di svegliarsi zuppi come dei pulcini e si impediti a fare qualsiasi cosa le scarpe